Il ritrovare i valori del Santo Natale e dello spirito natalizio partendo dal coinvolgimento delle scuole e della piccola economia artigianale. L'idea di fondo è stata quella di includere l'arte e la cultura in un mix di sensazioni e di emozioni coinvolgenti. È partita da giorni la dodicesima rassegna dei mercatini natalizi 2022 di Mirto Crosia. In questo mercatino, ad esempio, quest'anno abbiamo voluto dare la visibilità all'handmade, a tutti quei lavori fatti a mano, da persone che anche durante la pandemia si sono reinventati e si sono riscoperti artigiani. Laboratori creativi per bambini, giochi, giostre, manifestazioni canori di ballo, recitazione, attività informative e di sensibilizzazione. In una fase in cui siamo un po' riempiti da disvalori, le tradizioni del Santo Natale trasmetterle ai ragazzi, quanto è importante, diciamo, questo passaggio. Fanno parte della cultura, la cultura è fondamentale. Cultura ed enogastronomia è la presenza di associazioni, artisti ed autori vari. Noi dobbiamo fare di tutto per valorizzare le nostre eccellenze, portare sulle tavole dei nostri convenzali, degli amati nostri convenzali, sempre il chilometro zero. Il Natale è importante queste iniziative perché ci fanno unire ancora di più in quello che si è perso in questo periodo. La partecipazione attiva anche delle istituzioni. Attraverso questa iniziativa, che peraltro dura anche molti giorni quest'anno, hanno la possibilità di farsi conoscere, di stare, diciamo, in piazza. L'evento si è tenuto con il patrocinio dell'assessorato al turismo del Comune di Corsia. Matteo Lauria per l'ACI News 24. Broadcastingolo del Comune di Corsia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti